Buongiorno ragazzi, è la mattina presto, benvenuta a menopausa, è cominciata un mese fa, per questo capisco benissimo oggi le mie allieve che di più di 30 anni che insegnavo nelle palestre venivano da me a raccontarmi i loro disagi, i loro sofferenze, queste caldane incredibili, il sudore che ci invade la notte che non dormi, gonfi come un pallone e poi ingrassi da 10 a 30 kg no guardate è una cosa incredibile ma io ho deciso di prenderla in un altro modo è ovvio che disagio c'è ma nella mia filosofia di vita ho sempre pensato da bambina ma poi scoprendo questa strada della filosofia orientale è che più mi focalizzo sui problemi più li moltiplico, più mi focalizzo sul dolore più lo moltiplico, per questo cerco di essere più positiva e più serena possibile nel momento, io vi dirò quello che provo io, quello che faccio io, testimonianza mia, nel momento della caldana del sudore io cerco di per esempio aprire le braccia se sono in casa, aprire le gambe, essere completamente libera e dare lo sfogo senza focalizzarmi, senza essere negativa, senza lamentarmi, accetto così come viene niente, poi prendo o asciugamano o scotex e tampono il sudore la notte è uguale, la notte è uguale, cerco per esempio usare lenzuolo per esempio per addormentarmi anche durante la notte se succede qualcosa metto lenzuolo tra le gambe, tra le braccia così sento più fresco e poi tranquillamente mi addormento oggi invece sono uscita per fare una camminata che proprio mi serve per la meditazione dedicherò due ore per camminare in modo sereno, tranquillo, da sola anche per riflettere, per pensare, per liberare la mente in mezzo alla natura ovviamente faccio ginnastica tutti i giorni, tutti i giorni faccio lezioni bevo tanto, bevo tanto, prendo integratori e niente, cerco di stare più serena, più tranquilla con l'alimentazione devo trovare il mio equilibrio, ognuno trova il suo per adesso sono questi primi accorgimenti e vi posso dire che dopo un mese già sento qualche miglioramento sento, sento per esempio le caldane non sono più così forti probabilmente perché siamo diventate anche amiche in questo modo, è unico modo ragazzi in qualsiasi cosa che noi abbiamo dobbiamo diventare amici lo dico sempre a tutti i miei allievi se avete il dolore diventate amici, amatevi follemente perché con amici si sta proprio bene e la nostra mente reagisce in questo modo per questo, in questo ambiente, guardate, meraviglioso in mezzo alla natura, è una cosa incredibile quella che ci dà tantissima energia poi quella energia pura, quella energia positiva oggi inizio la mia giornata sono grata per questo piccole testimonianze, io vi dirò quello che faccio ascolto tantissimo, anzi anche di tantissime altre donne per questo non sono sola ad affrontarla siamo tantissime e niente, se avete bisogno io ci sono un abbraccio grande e anche di tantissime anche di tantissime